Salve a tutti da Tiziano Malimpasta, notate qualcosa di diverso? Ebbene sì, oggi è la prima volta che indosso questa divisa e ne sono veramente tanto onorata. Molti di voi sanno che faccio parte ormai della Federazione Cuochi Nazionali e mi vengono brividi perché per me era un obiettivo che veramente volevo raggiungere e ci sono riuscita. Oggi è una giornata importante, ci sarà una bella saga, la saga del fungo a noci e quindi io ne sarò partecipe, i giorni sono 4, 5 e 6 di ottobre, per chi volesse venire a trovarci noi ne saremo veramente, veramente dieti, io e la mia, e la Federazione di cui ne faccio parte con tanto orgoglio. Naturalmente poi sarà bellissima anche l'occasione innanzitutto di vederci per chi vorrebbe venire a trovarmi e poi visitare un bel posto. Io vi farò vedere poi magari nel corso delle mie vicende tutto ciò che io farò perché vi renderò partecipe di questo. Naturalmente sul mio canale io sono sempre con il mio crembiule e la mia cuffietta, questo sarà della nazionale, della federazione. Quindi ho voluto darvi un anticipo di quello che oggi comincio e veramente a tutti gli effetti. Poi naturalmente avrò i corsi che ci saranno a Brindisi e all'alberghiero, il 16 cominceremo i corsi. Il corso si tratterà del congelamento, quindi è molto molto interessante. Infatti ci sarà anche un attestato della Orgel, per me molto importante perché come ho sempre detto io voglio sempre di più ampliarmi e questo è uno dei miei obiettivi. Ok, io con questo vi ringrazio, mi raccomando, venite, se venite oggi mi trovate perché io domani non ci sarò. Però potete anche andare a visitare, vedere il bel posto, la saga. Ah, e volevo dirvi anche che stiamo facendo questo, siamo noi della federazione perché tutto ciò che faremo e il devoluto ne sarà per l'associazione, per fare del bene a qualcuno. Questa è la cosa più bella che ci possa essere, perché ti fa sentire bene il cuore, questo è importante. Quindi mi raccomando venite a trovarci. Grazie a tutti di cuore da Rizziano Mani in Pasta, ci vediamo, ciao!